E oggi, nella festa di Sant'Andrea, Apostolo del Signore, ognuno di noi possa sempre di più riflettere sulla sua vocazione e su cosa significhi lasciare la barca, lasciare le reti, lasciare le proprie convinzioni per seguire l'amore di Gesù, per seguire un qualcosa che ti prende e ti fa andare lì dove spesso tu non vuoi, ma quello è il segno della sua volontà, perché chi ti chiama, ti ama, ti vuole bene. E loro, i discepoli, gli Apostoli del Signore, l'hanno seguito per amore, hanno risposto ad una chiamata. Voi, questa sera, avete risposto ad una chiamata. Quale? Quella di farvi nutrire, di farvi nutrire, lasciarvi nutrire. Ecco, è facile amare, è più difficile lasciarsi amare. Allora, lasciate che l'amore, in qualche modo che viene da Maurizio, possa tutti quanti nutrirci questa sera. E rendiamo insieme gloria alla Santissima Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Diciamo che io l'incontro potrei anche non farlo, perché Don Antonio già ha detto tutto. Quello che avrei voluto dirvi l'ha detto lui, quindi. Perché lui ha fatto riferimento a Sant'Andrea di Coggio e a sua memoria. Chi è partecipato a messaggio, chi ha ascoltato la parola, riferimento è proprio la chiamata di Andrea, insieme a fratello Simone, nel Vangelo di Matteo, però durante la messa di oggi e stasera. Noi ci troviamo proprio come siamo arrivati al punto, dove c'è la chiamata dei primi quattro, le due coppie di fratello, di cui c'è anche Andrea. Quindi ascoltiamo la chiamata, secondo il Vangelo poi di Marco, rispetto a Matteo, ripeto, come abbiamo ascoltato durante la messa. Io non so, voi state camminando da quando abbiamo ripreso questo cammino? Però dite sì, no, così io mi sento incoraggiato, esatto. Sì, e va bene. Era lo spirito che forse voleva entrare, e che ne forse abbiamo impedito. Dicevo, stiamo vedendo, lasciandoci accompagnare da Marco, questa nostra conoscenza di Cristo Gesù, che è sempre più, dobbiamo approfondire, però ci stiamo anche rendendo conto, perlomeno la settimana scorsa sentivo qualcuno che sotto sotto, diceva qualcosa, però lo diceva in senso positivo chiaramente, cioè, mamma mia, di come ci mette in crisi poi questa parola. Che effettivamente così ci rendiamo conto di quanto bello sia ciò che ascoltiamo, però di quanto poi sembra poco più difficile applicarlo poi nella nostra vita. E qualche volta abbiamo anche la sensazione che possono sembrare due realtà completamente diverse. Come se vivessimo, ascoltiamo qui una storia bella di qualcosa che ha successo 2000 anni fa, che forse abbia poco da dire rispetto a quello che oggi concretamente stiamo vivendo. Però guardate, non è così. Perché questa storia che tra virgolette sembra così bella, non è che poi sia una storia bella. Anche perché a una prima lettura non è che abbia un lieto fine questa storia. Il protagonista principale addirittura muore in cruce. E quindi non è che ci sia un lieto fine. È vero che poi c'è il lieto fine con la resurrezione, però intanto la resurrezione non è una cosa storica. In che senso? Cioè, a livello teologico si dice che la resurrezione è qualcosa di meta, va di là della storia. Perché è sì come un fatto avvenuto, però non abbiamo nessun elemento che dicono che sia risorto. Nessuno l'ha visto nell'atto del risorgere. E quindi noi tra virgolette, vi ricordate, l'abbiamo visto, no? Negli altri Vangeli, la resurrezione si fonda sul vaneggiamento delle donne. Proprio così viene detto. Le donne vaneggiavano nel dire che questo Cristo era poi risorto. E poi arriveranno gli apostoli, però effettivamente lo vedranno risorto, ma non l'hanno visto nell'atto del risorgere. Quindi dicevo, non è una bella storia come la possiamo intendere noi. È una storia che fa fatica. Che fa la stessa fatica è stata anche per gli apostoli, per i discepoli. Noi, come vedremo adesso, lasciarono tutto e lo seguirono. Ma non è così semplice. Perché, vedete, la conclusione di un percorso, di un cammino, noi non l'abbiamo all'inizio, l'abbiamo alla fine. Quando noi partiamo, anche quando partiamo per una gita, noi all'inizio non abbiamo già il percorso finale di questa gita, l'abbiamo alla fine. E così anche nella sequela del Signore, noi la realtà l'avremo alla fine. Cioè, quando noi staremo lì e guarderemo indietro. Io l'ho detto tante volte, se vi ricordate, no? Pensiamo a Maria, pensiamo anche i Santi così. Non è che loro fin dall'inizio hanno avuto consapevolezza di quel loro sì dove li avrebbe portati. Allora, la capacità, effettivamente, di capire, di dire sì, fidandoci di colui che ci chiama. La fede è fiducia, non è altro. O c'è fiducia o non c'è fiducia. E se si ha la fiducia, allora si cammina. Sapeteno che la parola fede, nel suo significato etimologico, significa gettarsi con la consapevolezza che a un certo punto tu sarai preso. Non che ti getti e vieni preso. Quindi provate a immaginare un poco così per un'immagine cadere nel vuoto. Però sai che non ti sfracelerai. Però voi lo sapete, quando cammini, cadi... Provate a pensare, no, anche quando uno si siede e tu sei abituato a quell'altezza della sedia e poi, in caso di me, la sedia è più bassa e tu hai l'impressione che non arrivi mai. E così questo cadere nel vuoto, l'impressione è che tu non arrivi mai. Però sai, ed è con la fede che a un certo punto ci saranno queste mani che ti prenderanno. Quindi questa realtà solida sulla quale tu ti poggi e ti appoggi però arriva a un certo punto, non è che ta e c'è il piede già va lì sulla fede. Come anche, ripeto, no, il fatto di lasciare tutto e lo seguirono. Però non è vero. Perché intanto l'hanno tradito, l'hanno rinegato, sono andati, sono scappati, hanno commesso dei peccati. E alla fine poi arriverà, comunque, tramite anche tutto questo sarà il loro dire sì al Signore che l'hanno seguito. Perché vedete, quant'è che tu puoi dire di seguire una persona? Anche quando fai gli sbagli. Chi è che non sbaglia? Chi non fa niente. Chi resta lì nelle sue posizioni, fermo, così, sotto la cammina di vetro è l'unico che non sbaglia mai. Però nel momento in cui tu ti metti in gioco e esci lì così, allora lì è inevitabile che tu possa confrontarti con una realtà e quella realtà tu puoi possa sbagliare, possa commettere degli errori, se è vero che diciamo nessuno è perfetto. E anche nella sequela non è che ci sia la perfezione. Perché tutti quelli che hanno detto sì, automaticamente già spunta l'aureola in testa. L'aureola in testa spunterà alla fine. Dopo, ripeto, tutto il percorso che si è fatto, anche il percorso attraverso le spine. E quindi abbiamo iniziato questa realtà. Vi ricordate, compare con Vangelo di Marco Giovanni Battista perché Giovanni deve preparare la strada e anche l'indicazione dell'Avvento che inizieremo domenica di questa realtà di Giovanni che appunto prepara una strada, abbiamo detto, non è semplicemente una strada materiale, è riferimento proprio a una via che bisogna perché Cristo lo si incontra sulla via, sulla via della nostra vita. Perché guardate, adesso lo vedremo con la chiamata dei primi discepoli, è la quotidianità l'incontro con il Signore, nella quotidianità che avviene la salvezza. Perché noi siamo sempre portati a pensare che l'incontro con Dio avvenga di fuori del contesto nostro ordinario. Siamo portati a pensare che in un momento di preghiera io poi lì incontro il Signore. Il Signore lo si incontra proprio nel nostro vivere, nella quotidianità. Se è vero che Dio si rivela nella storia, come vedremo quando facciamo il percorso sull'Equarestia, se vi ricordate, Dio non si rivela lì fuori della storia. Perché se si rivelasse al di fuori della storia, non si rivelerebbe a noi. Perché noi viviamo nella storia, viviamo in questa storia. Noi viviamo in questa realtà, in questa realtà comunale, in questa realtà parrocchiale. Quindi in questa realtà comunale, sociale, parrocchiale, Dio si rivela. Allora, quindi vuol dire la capacità di leggere i fatti illuminati dalla parola. E in questa realtà, quindi, Giovanni prepara la strada, una strada che dobbiamo preparare continuamente. È questa strada che bisogna preparare, all'improvviso, Gesù si presenta sulla scena del mondo, vi ricordate, già aiutandoci a rileggere la storia con una mentalità diversa. Non in una grandezza, non in cui i segni che attirerebbero gli occhi, ma forse non cambierebbero il cuore, ma in un segno particolare che ha qualcosa da dire proprio a noi, a come volerci dirci essere cristiani, come uomo in mezzo ad altri uomini. Quindi Dio si rivela e chiede di essere accolto e conosciuto come uomo in mezzo ad altri uomini. La realtà di domenica scorsa, ricordate il famosissimo giudizio di Vangelo di Matteo, capitolo 25, quello che hai fatto all'altro l'hai fatto a me. E l'altro è un uomo, perché è l'affamato, è l'assetato, è il bisognoso, è un uomo. Non è una dimensione spirituale. Non è chi ha fame spiritualmente o chi ha sete spiritualmente, no, ma chi concretamente ha fame, concretamente ha sete. E lì il Signore si identifica, Gesù lì non dice come se l'aveste fatto a me, capite? L'hai fatto a me. E dirà non l'hai fatto a me. Quindi la vita nostra si gioca sull'opera di misericordia. La vita nostra non si gioca su altre cose. La vita come credenti, direi di più, come uomini, si gioca sull'opera di misericordia. Perché non perché sono cristiano io dovrei dare un bicchiere d'acqua a una persona. Dovrei dare perché c'è un assetato davanti a me. E tanto è vero che vi ricordate, lì poi i giusti diranno, Signore, ma io non ti ho visto assetato, non ti ho visto affamato. Quindi non è che io lo faccio perché so che nell'altro c'è Gesù Cristo. Perché se io lo facessi in questa attenzione lo farei per interesse. Siccome so che nell'altro c'è Gesù Cristo, gli do il bicchiere d'acqua così mi accaparro il posto in paradiso. Questo è interesse. Non è amore. Non è l'amore che ci ha insegnato lui. Do il bicchiere d'acqua perché tu hai sete. Se c'è Gesù, vabbè. Se non c'è, va bene lo stesso. Se sei credente, va bene. Se sei credente, va bene lo stesso. Non sto via a ragionarci sopra. Hai sete? C'è un bisogno e quel bisogno devo rispondere. Che poi la carità deve essere anche organizzata, va bene. Un altro discorso. Però capite? E questo è quello che Gesù pone fin dall'inizio, nel momento in cui lui ci chiede di seguirlo. Non è che ce lo fa trovare alla fine. E qui si mette in fila con dei peccatori dove coloro che sono segnati, che sono additati perché e i peccatori che sono segnati. Non lo so, pure tra di noi, no? Quando vediamo a cui c'è guarda quello, quello fa questo, quello e quello. Non diciamo quasi mai guarda quella persona, che bella persona. Che santità. Non lo diciamo quasi mai. Evidenziamo sempre le cose negative di qualcuno. Quasi mai evidenziamo gli aspetti positivi. Questo non ci fa bene, sapete? Perché quello che ci fa bene è cercare di cogliere il bene. Perché il bene c'è sempre intorno. E io se coggo il bene, capite, mi educherò anche a cogliere il bene. Forse nella società di oggi non abbiamo bisogno di educarci più a cogliere il bene che non il male. E mamma mia, è vero, accendiamo la televisione e sentiamo notizie negative. Un'altra bomba, un'altra volta quella è nata di là così. Quell'altro che risponde in quel modo. Allora siamo pronti a fare guerra. E l'altro è successo. Sì, non dobbiamo fingere, facciamo finte che non ci siano, però vogliamo cercare di cogliere anche dei semi di bene e aiutare a far germogliare questi semi di bene. Non dovrei forse essere io, per tornare sempre ancora a Vangelo di domenica scorsa, non è che alla fine io mi nascondo dietro a tutte queste situazioni e commetto il peccato di omissione, che è il peccato più grande che ci possa essere. E quindi Gesù si presenta così e chiede a noi discepoli del 2000 di accoglierlo così, di seguirlo così. Perché forse noi come discepoli oggi non lo stiamo più accogliendo così come lui si è mostrato. Lo stiamo accogliendo sotto mentite spoglie. Ci illudiamo di volerlo accogliere come Signore. Perché guardate, se io vi dicessimo voi a Gesù lo volete servire, certo che lo vogliamo servire a Gesù, però poi vi chiedessi quale Gesù vogliamo servire? E forse già qui potremmo trovare qualche difficoltà. Allora Gesù ci sta dicendo quali sono i suoi occhi, qual è il suo volto, qual è il suo sguardo, qual è il suo vestito. Per saperlo poi riconosce in questa realtà. Allora Gesù inizia la sua storia con gli uomini nel Vangelo di Marco con il Battesimo e poi annuncia, inizia il suo annuncio. Il regno dei Cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Vi ricordate? Quindi ci sono questi due imperativi e queste due costatazioni. Due realtà le fa Dio e due realtà sono chiamate a fare gli uomini. Dio fa che cosa? Si fa vicino, si fa prossimo. Con Cristo è il regno che si realizza, quindi la presenza di Dio. Non più un Dio lontano, un lontano, ma un Dio vicino. A questa realtà della vicinanza di Dio l'uomo, come è chiamato a rispondere, ad accogliere. Il Vangelo sarà tutto uno sviluppo di accoglienza del regno di Dio. Quindi sviluppo di accoglienza del regno di Dio, sviluppo accoglienza di Cristo Gesù, perché lui è il Vangelo, lui è il regno di Dio. Così inizia il Vangelo. Vi ricordate? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. O diciamo anche inizio del Vangelo che è Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è il Vangelo, Gesù Cristo è con lui che annuncia il Vangelo. E il Vangelo, ricordiamolo sempre, è la bella notizia. Qual è questa bella notizia? Che siamo amati da Dio. Ora proprio in questa prima scena quest'amore di Dio viene fuori. Leggiamo questi versetti del Vangelo e poi diciamo qualcosa. Siamo a versetto 16 del primo capitolo. Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori. Gesù disse loro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Come sempre cerchiamo di leggerlo e di farci la scena davanti ai nostri occhi. Vi ricordate ci troviamo a nord della Terra Santa quindi della Palestina quindi stiamo a nord nella Galilea la Giudea si trova giù a sud Giudea si trova Gerusalemme e Betlemme stiamo a nord stiamo a Cafarnao lì dove c'è il lago di Tiberiade vedete qui ha parlato di mare tenete presente che Gesù probabilmente il mare non l'ha mai visto e quindi quando parla di mare siccome il lago di Tiberiade o il lago di Cafarnao è molto grande quindi era questa massa di acqua quindi per loro era il mare e quindi il mare che ascoltiamo qui nei Vangeli è il lago lago di Cafarnao in questo caso lago di Tiberiade e qui Gesù svolge la maggior parte della sua attività pubblica della sua missione ed è il paese dei primi apostoli quindi ci troviamo ripeto lì su questa zona c'è lì dove poi lui salirà sul monte di fronte al lago dove poi avrà il discorso delle beatitudini il cosiddetto discorso della montagna quindi Gesù si trova lì evidentemente se Gesù è nato a Nazareth quindi al sud per andare lì a Cafarno a Cafarno è Nazareth Nazareth è il posto dove c'è la casa di Maria e dove Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo quindi evidentemente poi ritornano lì a Nazareth perché dice il testo a Nazareth Gesù crebbe ed era sottomesso ai suoi genitori cresceva in età sapienza e grazia inizia la sua vita chiaramente Nazareth si trova lì vicino a Cafarno e quindi da lì poi Gesù inizia la sua missione quando arriva qui a Cafarno dove abbiamo ascoltato noi Gesù ha camminato per arrivare lì vedete pure Gesù cammina Gesù non sta mai fermo Gesù cammina sempre e quindi evidentemente già qualcosa avrà detto che forse gli Evangeli non ci hanno trasmesso perché poi ci rendiamo conto che gli Evangeli cercano anche di fare sintesi gli evangelisti in quello che ci trasmette non è che ci hanno raccontato tutto dirà Giovanni che lui ha scritto solo qualcosa di quello che Gesù ha fatto perché altrimenti dirà Giovanni che tutte le biblioteche di questo mondo non riuscirebbero a contenere tutti i libri scritti su ciò che Gesù ha fatto e quindi allora vuol dire che noi non abbiamo quasi niente se tutte le biblioteche di questo mondo non riuscirebbero a contenere i libri su Gesù quindi veramente abbiamo pochissimo però abbiamo quello che è necessario alla nostra salvezza quindi Gesù nel suo camminare avrà già annunciato il regno così e quindi già si sapeva cosa di questo Gesù già si iniziava a dire cosa su questo maestro ripeto la cosa bella è che lui cammina perché infatti il primo verbo è passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori Gesù disse loro venite dietro a me quindi provate a immaginare la scena Gesù che sta camminando sta per i fatti suoi Andrea e Simone stanno per i fatti loro stanno lì lungo il mare stanno pescando quindi stanno facendo un'azione che facevano forse ogni giorno era il loro mestiere erano pescatori quindi il mangio di oggi come ho detto prima inizio il mangio di Matteo i pescatori fanno questa cosa quotidianamente Gesù sta vivendo la sua giornata e loro vivono la sua giornata a un certo punto queste giornate si incontrano la cosa bella è che qui Dio interviene nella storia vedete tutte le religioni dicono una cosa fondamentale che l'uomo va alla ricerca di Dio vi ricordate l'abbiamo visto quando c'è il costo delle guarestie solo il cristianesimo dice che Dio va alla ricerca dell'uomo tutte le altre religioni sono l'uomo che si mette alla ricerca della divinità solo la nostra dice che Dio è lui che si mette alla ricerca dell'uomo allora voi capite Dio viene a cercare te viene a cercare me così come un innamorato va a cercare la sua innamorata va alla ricerca di chi possa corrispondere a questo suo amore e per fare questo vedete però non lo puoi fare stando fermo stando a casa tua stando seduto il cercare la ricerca necessariamente implica il metterti in movimento metterti in cammino è il primo gesto di chi cammina è di chi sta in piedi è chi sta in piedi che cammina chi sta seduto non cammina chiediamoci non è che ci siamo troppo seduti sì è vero che Gesù è lui che cerca in quanto segno della presenza di Dio agli apostoli chiederà di seguirlo di seguirlo nel cammino e se Andrea e Simone sono prototipo di una chiamata vuol dire che sono il modello anche della nostra chiamata e se Andrea e Simone stanno lì pescando stanno facendo la loro attività quotidiana e il Signore passa e il Signore passa anche quando noi stiamo facendo la nostra carità quotidiana il Signore non passa quando facciamo abbiamo uno slancio interiore di volerci dedicare o offrire in un atto di carità il Signore passa e qui quasi è come se lanciasse una sfida proprio quando noi a Lui non staremo proprio pensando è perché certamente Simone e Andrea non stanno loro pensando in questo momento a Dio o alla divinità o al sacro stanno pensando a come hanno mandato avanti la loro famiglia capite è un orizzonte quello di Simone e Andrea dove il Signore non c'era proprio in quel momento è in quel non orizzonte di Simone e Andrea che Gesù lì passando entra e qui dice no vide il vedere pensiamo al nostro vedere quanto è superficiale tante volte pensate quando noi guardiamo e ci fermiamo alla superficie delle cose pensiamo anche quando giudichiamo qualcuno giudichiamo perché perché noi guardiamo alla superficie non guardiamo in profondità ma dice ma non noi non guardiamo in profondità non perché non abbiamo la capacità di non guardare in profondità perché noi i nostri sensi di cui la vista è un senso noi i nostri sensi non li abbiamo più sviluppati perché sviluppare un senso entrare in profondità significa a un certo punto lasciarsi coinvolgere con quella realtà che ti sta davanti ma se di quella realtà tu non vuoi lasciarti coinvolgere allora è chiaro che metti un giudizio e finisci lì e io vi invito in questo cammino che stiamo facendo di vedere tutte le volte che Gesù vede nei Vangeli e tutte le volte che gli altri vedono la differenza che c'è ricordate la peccatrice maestro abbiamo sorpreso questa donna in flagrante adulterio l'hanno vista il buon samaritano ricordate i sacerdote lo vide e passò oltre i levita lo vide e passò oltre il samaritano invece lo vide e si fece vicino questo vedere di Gesù è il vedere di Dio è il vedere del Padre e vedete in questo vedere c'è l'essenza profonda del nostro essere cristiani perché nei momenti in cui il Gesù li vede e li chiama li chiama non perché Simone e Andrea siano migliori più bravi o più santi rispetto agli altri Simone e Simon Pietro quello che poi lo rinegherà li chiama per un atto d'amore l'essenza profonda dell'essere cristiani è proprio questo vedete è l'essere visti dall'eternità da Dio e dall'eternità chiamati per un atto d'amore noi non siamo chiamati perché siamo santi noi non siamo qui stasera perché siamo migliori rispetto a quelli che stanno fuori sulla piazza tra noi e quelli che stanno sulla piazza noi non siamo migliori forse abbiamo o dovremo avere la consapevolezza di essere amati e questo è quello che dovrebbe qualificarci sapere che sono amato sapere anche di non corrispondere sempre a questo amore sì anche questo allora questo poi non mi porta alla superbia questo non mi fa considerare meglio degli altri vi ricordate nelle altre scene no simon pietro del signore allontanati da me che sono un peccatore ma che tu sei peccatore non impedisce a gesù di amarti perché direbbe libro della sapienza se tu non l'avessi amato neanche l'avessi creato è dell'amore che tiene in vita è della consapevolezza di essere amati attenzione che ci porta a poter chiedere perdono noi dovremmo andarci a confessare non perché abbiamo commesso un peccato perché ci sentiamo profondamente amati e non siamo riusciti a corrispondere a quell'amore perciò ci andiamo a confessare e per certi aspetti proprio questo sentirci amati è quello che dovrebbe anche devastarci interiormente noi dobbiamo partire dall'esperienza umana altrimenti non la capiamo quella divina provate a pensare a quando due ragazzi si amano e non stanno nella pelle quando due ragazzi si amano e non desiderano altro che potersi vedere e rivedere e quando due ragazzi si amano hanno un solo desiderio poter stare con l'amato o con l'amata non desiderano altro e quando due ragazzi si amano quando uno dei due c'è un'incomprensione l'altro soffre l'amore non è impassibile c'è un detto lo diciamo chiama patita è così provate a pensare ai patimenti di Dio e quindi questo vedere è fenomenale è meraviglioso è stupendo e questo vedere è un vedere dall'eternità che ha Dio e provate a pensare che su quel lago su quel mare come lo vogliamo chiamare di Tiberiade è mentre Gesù vede Simone e Andrea sta vedendo anche noi proviamo a chiederci prima dicevano come noi vediamo la realtà proviamo a chiederci come sono visto io da Dio proviamo così no metterci così un attimo anche quando veniamo in chiesa per l'adorazione eguaristica per la visita al sacramento anche per un semplice momento così di preghiera personale prima ancora di partire in quarta faccio la mia preghiera Padre Nostro e me di gloria al Padre Gio un attimo di silenzio no prendo consapevolezza lo sguardo di Dio che studi me già ve l'ho detto tre volte una volta nei seminari in tutti i corridoi compariva sempre una scritta Dio ti vede però era terribile quella frase no Dio Dio ti vede ma non col punto col dito così Dio ti vede con il cuore così capite no che iniezione di 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 benessere svegliere di partire la mattinata così con lo sguardo di Dio che se volete in un certo qual modo come immagine Dio ti vede come parola è benedizione la parola che traduce l'immagine se volete è benedizione e prima perché quando si va di casa uno benediceva l'altro a Marona ti accompagni dice il cardinale Sefa e noi l'abbiamo imparato pure noi il Signore ti benedica perché non proviamo di nuovo a riusare queste espressioni quando il marito esce di casa o la moglie esce di casa o i figli escono di casa così il Signore ti benedica allora capite mentre lui va avanti sapete che dietro c'è il Signore ma pur se non lo dico c'è lo stesso però il fatto di dirlo mi aiuta a prendere consapevolezza e questo dirlo questa benedizione è il vedere dall'eternità e vide Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti in mare ripeto stavano pescando e stavano guadagnando c'era la famiglia lo sappiamo Simone è possibile dopo c'è la suocera che ha letto con la febbre subito dopo quindi c'è una famiglia dietro Simone e Andrea sono dei nomi sono delle persone sono delle storie non sono dei nomi inventati ogni nome è una storia guarda quando leggiamo la lunga genealogia l'anno scorso quella di Matteo c'è una storia dietro un nome è una storia concreta quotidiana come la nostra storia concreta quotidiana quanti anni avranno Simone e Andrea 30, 40, 50 non lo sappiamo avranno degli anni quindi avranno delle esperienze positive e negative belle e brutte di peccato e di grazia di slancio e di ritardo questo è Simone e Andrea non sono i prototipi della santità sono i prototipi di due uomini possiamo togliere loro non mettiamo i nostri nomi sarebbe la stessa cosa Gesù lo stesso avrebbe detto i nostri nomi e avrebbe detto mentre gettavano le reti erano infatti pescatori e li vede mentre stanno facendo questo non li vede mentre stanno facendo altro e Gesù disse loro Gesù vede e parla anche al vedere questo vedere profondo da seguito a questa profondità vedete non è uno sguardo quindi che si limita a vedere il bene possibile nella persona perché nel cuore di ogni uomo c'è il bene c'è il bene possibile nel cuore di ogni uomo che poi io faccio uscire fuori il male è un attimo di mani però nel cuore di ogni uomo c'è tanto bene e Gesù non si limita solo a vedere il bene perché anche io potrei limitarmi a dire ah sì quella persona se facessi questo già sarebbe una cosa positiva ah quella persona potrebbe sviluppare del bene Gesù poi dice anche il bene lo dice anche e lo dice in che modo questo bene venite dietro a me dice il testo greco qui dietro a me sono due preposizioni di moto al luogo no qui dietro a me e a me pronome personale e anche qui attenzione a me non all'idea a me cioè a me Gesù io io Gesù perché la fede è questa una persona reale concreta la fede non è un'idea noi molto oltre abbiamo ridotto la fede a un'ideologia un bel pensiero il cristianesimo è un bel pensiero il cristianesimo non è una religione il cristianesimo è una persona Cristo Gesù noi non crediamo a una serie di dottrine o di idee noi crediamo a una persona perché tu solo a una persona ti puoi fidare e affidare il regno il tempo è compiuto il regno di Dio vicino convertitevi accogliete il Vangelo ecco qui si inizia a sviluppare allora adesso tutto questo e attenzione perché è dietro a me non davanti a me pure questo è bello perché Gesù non è solo colui che ti apre la strada che te la traccia quindi che si pone come modello Gesù è anche colui che si fa compagno della tua strada è colui che cammina con me passando lungo il mare e quindi mentre cammina e in questo suo camminare in questo coinvolgere in questo leggere la storia vedete chiama dietro a me a camminare e a leggere la storia con questo modo qui perché il chiamato non è semplicemente chiamato a percorrere dietro a lui come se fosse zitto è muto così abbassa la testa e cammina così no ma ha chiamato che cosa ad assumere lo stesso atteggiamento del maestro e quello che Gesù inizierà a fare lo farà alla presenza loro perché dirà come ho fatto io facciate anche voi fate questo in memoria di me e non semplicemente per qualche episodio ma di tutto quello che Cristo ha detto e ha fatto loro sono testimoni annunciatori e attuatori pensate che di qui a poco il primo miracolo che farà sarà un miracolo così insignificante e inutile a metterlo la volta scorsa guarirà la suocera di Simone dalla febbre però la guarirà con un gesto particolare la prenderà per mano vedete è l'umanità che interessa Gesù se il rapporto la fede è un rapporto concreto con una persona anche Gesù ha un rapporto concreto con l'umanità non in astratto niente esiste in astratto per Dio e niente dovrebbe esistere in astratto per l'uomo che vive la fede il rapporto con Dio vi farò diventare pescatori di uomini attenzione perché qui dal lato ancora una volta si vedeva l'iniziativa che è di Cristo non è Simone e Pietro che decidono di seguirlo votetelo la differenza no gli altri sceglievano un Dio è qui Gesù che sceglie sceglie nella sua libertà e ripeto questa questa sua iniziativa che dà senso poi a tutto ciò che poi succederà poi in seguito è quello che sarà e nel farlo il fatto di dire gli farò diventare pescatori di uomini li chiama in quella realtà dove loro sono degli esperti pescare perché erano pescatori ora però con la sua chiamata loro continueranno ad essere pescatori ma a quell'ora essere pescatori si aggiungerà qualcosa di specifico di diverso nello svolgere materialmente ciò che facevano prima si aggiunge qualcosa di diverso lo sguardo la realtà nuova significata adesso dalla sua presenza non più loro ma loro che camminano dietro a lui assumendo i suoi stessi atteggiamenti compiranno quelle azioni che loro sanno fare con qualcosa di diverso pescatori di uomini ora è un'espressione un po' costrano pescatore di uomini no perché perché nel mare tu che cosa peschi i pesci se un uomo cade nell'acqua e non sa notare che cosa succede affoga pescatore di uomini è come se Gesù dicesse la vostra missione sarà quella di pescare l'umanità che sta rischiando di affogare nella realtà del mare e sapete che nel linguaggio biblico il mare è il male tant'è vero in una delle scene seguenti Gesù sgriderà il mare taci dirà vicino al mare come dirà vicino all'indemoniato taci quindi nel mare che può simbologiare il male dell'umanità dove gli uomini possono affogare cadere e quindi morire per non lasciare morire la funzione tua chiamato a seguirmi perché ti ho chiamato e ti ho fatto grazia quindi se ti ho chiamato e fatto grazia il primo a uscire fuori da quest'acqua chi è? è Simone e Andrea capite? sono loro i primi che escono fuori da quest'acqua che sperimentano l'uscita dalla morte per chiamata per pura grazia allora tu siccome sei bravo a pescare e questo sai fare continua a pescare ma continua a pescare però in modo una realtà diversa una realtà di un'umanità che siccome è ripreso fino adesso dei pesci perché devi mandare avanti la tua famiglia è vero manda avanti la tua famiglia però non dimenticarti di un'umanità nella quale tu sei inserito e fai parte che questa umanità non ti può essere estraneo e indifferente e sta affondando sta morendo questa realtà i germi di male che ci sono sei chiamato a porre germi di bene il primo germe di bene qual è? prendi questa umanità con questo tuo sguardo diverso come tu sei stato guardato da me Gesù guarda questa umanità e i tuoi fratelli che stanno per affogare i tuoi fratelli portali alla vita vi farò diventare pescatori di uomini ora attenzione perché dice il testo vi farò diventare pescatori non siete pescatori di uomini si impara è un cammino ecco perché ha detto dietro a me la tentazione nostra è di metterci davanti a lui o la tentazione è di pensare che solo perché l'abbiamo detto questa sera adesso subito noi siamo così bravi adesso riusciamo ad attuarlo è un cammino e se non percorriamo il cammino e durante questo cammino qualche volta riusciremo qualche volta non riusciremo e non dobbiamo fermarci dobbiamo continuare a camminare perché la tentazione del cammino qual è? quella di stancarsi è la tentazione chi non fa sport o chi non si fa una passeggiata quotidiana ha difficoltà a fare un poco di movimento però chi ordinariamente si fa la passeggiatina riesce a camminare e a sostenere il cammino però chi non lo fa mai aspetta ma ci riposiamo un po' che mi sono stancato e poi sapete che succede? che quando dici mi sono stancato ah beate chi ha creato la sedia e vai a rilassarti più poi è una parola anche nella vita spirituale guardate tale e quale non vi ludete non ci ludiamo e subito lasciarono le reti e lo seguirono mamma mia noi leggiamo con ammirazione diciamo che coraggio hanno avuto stia posta hanno lasciato tutte subito hanno lasciato tutte e lo seguirono non è non perché intanto ripeto andrà a casa poi di Simone dice bene della sua c'era qui da casa di Simone dice bene della salutare la barca dopo ci sarà ancora di nuovo quella barca perché guardate, Simon Pietro andiamo a pescare, quindi c'è ancora quella barca inizia si inizia a comprendere qualcosa si inizia a dire vi ricordate, convertitevi si inizia man mano a fare un giro se convertirsi significa tornare indietro fare questa conversione a U allora man mano inizia a fare un passo e alla fine alla fine perché vi ricordate, ma è lui o non è lui la gente che dice che io sia e ci vorrà tutto un cammino a metà tu sei il Cristo e il figlio di ma chiediamoci che cosa avranno capito se noi con tutti gli studi che abbiamo, con tutto quello che sappiamo ci chiediamo in certi momenti della vita ma che cosa ho capito, figuriamoci loro Beati loro perché sono stati al tempo di Gesù però tante volte Gesù quando camminava non è che camminava con l'aureola oppure tenevi i raggi di luce Gesù misericordioso c'era l'anno scorso c'era l'immagine qui, no? però stava qui se vi ricordava Gesù e San Faustina non è che Gesù camminava e tenevi i raggi che uscivano dalle sue mani capite? perché così è facile saresti stupido poi non seguirlo e lui che il problema è che quei raggi non escono da quelle mani però noi abbiamo questa capite? abbiamo questa qui che illumina con la consapevolezza che illumina noi come hanno illuminato l'oro e subito lasciano le reti e lo seguirono c'è qualcosa di particolare qui il fatto che ci sono delle reti quindi ripeto ancora una volta la realtà quotidiana la realtà concreta non mettiamola da parte non mettiamola tra parentesi provate a pensare la vostra realtà quotidiana lavoro casa famiglia parrocchia comune società ma essere concreti guardate in mente siamo troppo spirituali e il Vangelo non è spirituale si possono fare le letture spirituali però attenzione è concreta è concretezza è la storia è una storia è Natale tra poco questo il verbo si fa carne sposa la storia si incarna perché Dio si rivela la storia è la pelle di Dio no non è mia mi è venuta così mi ricordava ma non è mia e lo seguirono vuol dire che l'hanno seguito c'è stato un seguito perché uno può anche non seguire ebbè però qui poi l'hanno seguito si sono messi in moto si sono messi in moto perché non è detto che la chiamata produca automaticamente la risposta non è automatico quindi proviamo anche qui a chiederci in quante volte quelle reti ci siamo impigliati dentro quante volte quelle reti ci sono stato un ostacolo quante volte quelle reti comunque ci hanno dato una sicurezza perché teniamo presente la sicurezza per l'insicurezza eh sì Gesù noi sappiamo è figlio di Dio vabbè d'accordo però vuoi mettere comunque un poco di lavoro lo tengo andando un poco oltre vide Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre anche essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i carzoni e andarono dietro a lui sembra quasi la stessa scena in un certo modo è la stessa scena però vedete si arricchisce di qualcosa in più perché mentre la scena poi sembra sempre la stessa appunto di questa chiamata ancora qui vide quindi ancora una volta c'è lo sguardo la storia si ripete quindi anche per questi due gruppi di fratelli e vedete la coppia di fratelli due a due quasi ad indicare una fraternità nuova a indicare che i due fratelli i primi fratelli di sangue con la chiamata di Cristo adesso diventano continuano ad essere due fratelli però c'è una fraternità nuova perché con Cristo nasce una nuova fraternità chiede a madre chi sono i miei fratelli coloro che fanno la vita di Dio per me fratello sorella e madre guardate mettiamoci in pace un'anima per sempre stagò stavolta noi siamo la fraternità di Cristo siamo la famiglia di Dio e per quanto in famiglia ci si possa litigare però in famiglia ci si vuole bene io voglio bene a questa famiglia di Dio io voglio bene a Don Ernesto ma non perché sacerdote come ti chiamano? voglio bene Antimo o il Vangelo diventa vivo o concreto o no perché Antimo qualche volta mi era fastidio cose e va bene pure io con mio fratello noi eravamo cinque in famiglia sono tutti quanti sposati sono solo io a casa con mamma però quando eravamo bambini comunque litigavamo non è che siamo sempre d'accordo che siamo andati e qualche volta siamo mandati anche a quel paese qualche volta abbiamo litigato anche no non doveva tenere così però poi si è andati oltre si dice no il sangue si mastica ma non lo si sputa eh ok e allora però se mi sento chiamato da Cristo se mi sento chiamato per uno sguardo d'amore e se mi sento chiamato non per meriti perché se mi sento chiamato per meriti guardate è una comunità che si sentisse chiamata per meriti è il guaio più grande per un sacerdote se mi sento chiamato per pura grazia e veramente mi sento chiamato per pura grazia ho la consapevolezza di non essere santo ma di essere peccatore e come lo sono io lo è pure chi sta a fianco a me se ho la presunzione invece di essere chiamato per grazia chiaramente chi sta a fianco a me invece è peccatore capite? è la rovina capite? perché fin quando il Signore ti ringrazia però non sono come questo peccatore quindi che cosa ha colto lui della sua vita? i meriti suoi e non piuttosto quello che è Dio perché non si tratta di conquistare Dio si tratta di lasciarsi conquistare da Dio questa è mia e sì perché il problema è che Don Antonio ce lo diceva all'inizio della preghiera proprio questo è il fatto di dire quanto sono bravo e quindi sono bravo ecco perché il Signore mi vuole bene perché io sono bravo lo merito no io sono amato non perché lo merito posso anche meritarlo ma non sono amato perché lo merito sono amato perché mi ama a prescindere dai miei meriti se volete è amandomi che mi rende meritevole ma perché amandomi amandomi mi dà la possibilità di diventare buono ma non sono buono e quindi mi ama e se in me questo è chiaro sarà chiaro che se lo è per me lo è anche per l'altro e per gli altri e qui non c'è più giudizio capite qui giudizio viene proprio meno perché almeno in cui giudico allora mi sto mettendo al posto di Dio e quindi come direi automaticamente qui scatto poi nel merito sì posso avere difficoltà posso avere un contrasto è un'altra situazione quella possiamo non capirci è un'altra cosa quella realtà è un'altra situazione ed è normale quello perché siamo anche tra di loro io e Don Ernesto abbiamo due modi diversi di portare avanti che insomma è un'azione pastorale ma non significa che c'è il fatto di sparlare oppure di non prenderlo in considerazione di non considerarlo appunto oppure io così e tu invece no sì quando io presumo di meritare e quindi perciò perché merito questa cosa automaticamente andiamo in giudizio perché io merito automaticamente l'altro non merita e quindi dicevo di questa realtà stupenda è fraternità e quindi ecco dove nasce la fraternità nuova ecco dove si è nuovi si è nuovi dallo sguardo nuovo che il Signore ha su di noi qui si è nuovi allora vogliamo considerarci così partiamo da questo sguardo lo sguardo c'è e c'è dall'eternità capire di essere guardato così da Dio da sempre allora vedete questa poi la realtà concreta e quotidiana proprio questa qui non è altra allora in quella realtà mia del lavoro di oggi allora capite annoiato stanco così invece come il lavoro poi diventa diverso come la fatica diventa diversa c'è il senso è sapere di di essere parte di una fraternità perché non a caso ripeto due a due Simone e Andrea Giacomo e Giovanni e qui la cosa in più voglia di dire c'era il padre pure dietro Zebedeo e ci sono i garzoni quindi vuol dire che possedevano eppure queste la stessa cosa lasciarono il padre nella barca con i garzoni e darono dietro a lui e anche qui c'è stata una risposta positiva di il tempo è compiuto il regno di Dio convertitevi e credete all'avangelo di questa accoglienza di questa realtà però pure qui e man mano proprio Giacomo e Giovanni vi ricordate signore vuoi che facciamo scendere una cosa dal cielo e il fulmine così il fuoco così li bruciamo tutti quando Camerano e San Marino non vogliono accogliere Gesù saranno chiamati i figli del tuono e la mamma vi ricordate signore vorrei che i miei figli non adessano a sinistra la mamma altre volte sono loro stessi che chiedono ad essere vedete lasciate tutte le seguite che hanno capito non capite che sono poveri uomini quindi capiscono che cosa guardate stranamente seguendolo si capisce che cosa che si è poveri uomini che si è fragili seguendolo allora seguendo ricordate diciamo la misericordia io consapevole di misericordia e sono consapevole del mio peccato se non sono consapevole di essere peccatore che misericordia sto sperimentando ancora qui no la presunzione vabbè ma perdonato non ci fate niente voi avrete il giubileo l'avretano voi parteciperete come forania e che cosa è il giubileo l'avretano se non questi immagricini e la misericordia che è pura grazia e siamo arrivati al punto perché altrimenti rischio che diciamo cose che deve poi sedimentare deve scendere ma fa scendere io ve l'ho detto altre volte se a livello personale nel leggere la parola nell'ascoltare o meglio la parola c'è un verbo che ci dovesse colpire diciamo ferma lì dobbiamo chiudere ci dobbiamo fermare ma dice ma c'è un capitolo intero oggi no non è vero perché il Signore mi ha parlato in quel verbo mi ha parlato in quell'azione in quella frase e lì allora mi devo fermare lì e capitolo nole e non fa niente non mi ha detto il medico di agire un capitolo allora lo continuerò domani allora immagino vide allora capite su questo vedere come guarda il Signore come guardo io come guardo la storia come guardo la realtà come dovrei guardarla come non riesco a guardarla perché su un verbo è una parola un verbo grazie a tutti 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 grazie a tutti